In quel tempo, venuto nella sua patria, insegnava nella sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva, da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Shalom, fratelli e sorelle in Cristo. E Gesù arriva anche a Nazareth. Area di casa, volti familiari, la gioia di tornare per chiunque a legami importanti nel proprio paese. Eppure per il missionario Gesù non è stato così. Gli nazaretani non hanno saputo apprezzarlo, non sono riusciti a superare l'idea che hanno su di lui e la sua famiglia. Nonostante siano rimasti colpiti dalle sue parole e dai prodigi compiuti, si domandano come è possibile, visto che lui è solo il figlio di, il figlio di qualcuno, il figlio di Giuseppe, il faligname, il figlio di Maria. Essi non sanno che l'onipotenza e la santità di Dio passano attraverso la debolezza e la povertà dell'essere umano. E perché non riescono ad andare oltre, i loro interrogativi scelgono la soluzione più comoda, trasformare l'altro in un problema, infamarlo, affermare che è scandaloso. Nonostante la sua natura divina, Gesù subisce il disprezzo, subisce il male dell'uomo e si fa segno. Segno che in assenza dell'umiltà e della fede, Dio polge altrove la sua onnipotenza e santità. Preghiamo Gesù attirami a te, fammi entrare nel tuo cuore, immergimi interamente nella tua carità infinita e fa che già su questa terra io sia concittadino del cielo, fratello dei santi, misticamente unito al Padre, a te che sei figlio, allo Spirito Santo amore e a Maria tua è nostra madre. Amen